Quello che secondo me ancora sposta l'ago della bilancia per quanto riguarda la comunicazione sono assolutamente le idee che arrivano sì dai dati ma poi è sempre il pensiero umano che fa lo scarto. Penso che una buona comunicazione oggi debba regalare un'esperienza alle persone perché questa esperienza tende la mano verso le persone, fa sì che ci sia un dialogo, un rapporto di amicizia e a volte nel migliore dei casi anche di amore. Infatti per questo si arriva a parlare di Love Brands. Penso che la tecnologia oggi ci dia infinite possibilità e tantissime opportunità perché basta vedere tutte le persone che lavorano ad un progetto, dai planner ai creativi, agli sviluppatori, agli ingegneri e questo secondo me è una bellissima opportunità perché si imparano tantissime cose quindi penso che il mix più giusto sia quello di una forte idea data da un forte insight che arriva dai dati e poi appunto come dicevo anche prima l'idea che fa sempre la differenza.